Io ve lo dico da sindaco di Firenze, da ex sindaco di Firenze, il Campo Roma all'Olmatello è stato smantellato, ma non con i manganelli, non con le forze dell'ordine, non con un atto di polizia urbana. Ora, quei bambini sono stati mandati a scuola perché pensiamo che avere la possibilità di educare le donne e gli uomini che saranno i cittadini di domani è il primo punto e quando io ho ricevuto una lettera di un bambino rom che mi ha scritto, che mi ha scritto, caro sindaco, siccome il pulmino arriva sempre in ritardo, io perdo i primi 25 minuti della lezione di matematica e vorrei essere il più bravo di tutti a matematica, puoi farmi cambiare il pulmino? Perché lo scuolabus aveva dei problemi logistici? Io ho capito che l'integrazione non la fai andando a fare le manifestazioni e cercando di alimentare la paura degli italiani, ma dicendo uno che la legge è uguale per tutti e noi siamo i custodi della legalità, noi siamo per il rispetto della legge e dire che la legge è uguale per tutti significa dire che in un paese come il nostro, dove vige una costituzione,